Ciao ragazzi, benvenuti su Cassius Drums, oggi sono in compagnia di strumentimusicali.net per farvi vedere una cosa, stai zitta cordiera come al solito, molto interessante secondo me e secondo me dovrebbe essere interessante per tutti i batteristi, cioè pelli per rullante quindi voglio andarvi a far vedere che cosa ho preso su strumentimusicali.net perché ne ho prese un bel po', tutte di casa Evans, in realtà oggi, dato che di solito useremo ho deciso di provare a fare Evans perché in realtà secondo me le pelli Evans per rullante sono pazzesche, ce ne sono tantissime, eccole qua e quindi proviamo Evans oggi. Allora, in realtà le pelli che voglio provare sono quattro, ne ho prese cinque solo per un motivo molto semplice, qual è? Dov'è? Qui. Ho preso anche una G1 normalissima, è la pelle monostrato normale per eccellenza di Evans quindi voglio montarla, andare a provarla per capire qual è il suono normale di rullante con una pelle normalissima monostrato. Poi andiamo a vedere tutte quelle più strane. Ma per fare questo ho deciso di non usare il mio solito Starphonic di Tama perché poi mi dite, eh ma con lo Starphonic di Tama suona tutto bene e quindi poi noi abbiamo i nostri rullanti magari un po' più economici e abbiamo problemi con quelle pelli. Quindi ho deciso di usare questo MAPEX MPX 14x7, l'avete già visto in un video in cui ho provato un po' di rullanti tutti uguali ma di dimensioni diverse, ve lo lascio qui sotto in descrizione, questo è un MAPEX di quelli comunque economici. Così abbiamo la prova con un rullante economico. Prendo la mia chiavetta e vado a togliere questa pelle per mettergli la G1. Quindi eccoci qua, pelle G1 montata, sentiamo come suona. Sicuramente questa è la pelle normale, monostrato, sabbiata, una pelle molto 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 versatile, va bene per fare qualsiasi genere e soprattutto è una pelle molto molto sensibile, prende qualsiasi colpo, qualsiasi dinamica, anche sui bordi del rullante, in qualsiasi posto. Non vi voglio parlare tanto di questa pelle perché è una pelle normale e era giusto per provarla. Quindi faccio partire la sigla perché adesso parte veramente il video e intanto, no, facciamo dopo, sigla! Prendiamo le pelli a caso, quindi prendo la pelle che ho davanti a me. Allora, questa qua partiamo da una EC Reverse Dot. Ammazza! Ok, bella questa! Questa qua è una pelle né trasparente né sabbiata ma ha questa sabbiatura trasparente molto particolare che fa solo Evans con il Dot sotto in modo tale che non dia fastidio sopra. Nel momento in cui si vogliono ad esempio usare le spazzole o si ha bisogno di qualcosa, questa è una pelle completamente liscia, il Dot aggiuntivo è sotto che dà un po' più potenza e stoppa un pochettino di più la pelle. Pelle doppia perché ha uno strato sotto da 10 mils e uno strato sopra, questo qua ho sputato, sabbiatino, non sabbiato ma questa cosa qua, da 7 mils, quindi 7 millesimi di pollice. Andiamo a montarle e sentiamo come suona. Eccoci qua, pelle montata, la Evans EC Reverse Dot. Questa ve la faccio sentire subito perché è una pelle che non avevo mai provato e mi è piaciuto un sacco. Come sentite, tutte le armoniche che avevo con la G1, montata, sono praticamente sparite. Quindi, qualcosina c'è ovviamente, ma è anche date dal rullante, ma comunque veramente una pelle pazzesca perché insecchisce di brutto il suono. Riesce a mantenere la potenza, avevo un po' paura di questo, devo dire, perché comunque nel momento in cui metti una doppio strato su rullante con un dot anche in mezzo, il rischio è quello di perdere volume, tantissimo. Invece questa non perde volume, mantiene un attacco molto pronunciato e insecchisce di brutto il suono. Quindi suono molto secco, che per alcuni generi potrebbe andare molto bene, per il panettone, se vogliamo fare il rullante panettone va molto bene perché non dobbiamo andare a riempire il rullante di mungel, di scotch, eccetera, eccetera. E in più, il suono in generale di questa pelle è proprio un po' più verso il basso come frequenza. Quindi, ottima pelle, veramente, veramente. Questa pelle rivelazione perché non l'avevo mai provata, ma credo la userò in alcuni contesti specifici. Molto figa, meno versatile della G1 ovviamente, però super pelle. Adesso, andiamo a provare la pelle nuova. No, 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 questa assolutamente no, perché ve la voglio. Questa è una sorpresa, quella pelle che ho appena preso. Ve la faccio vedere dopo, come penultima. Questa invece, che cos'è? Ah, raga, questa è forse una delle mie pelli preferite per rullante. Ammetto, spoiler, una delle mie pelli preferite. Allora, la Evans Genera Dry. Praticamente le dry le conoscete perché hanno questi forellini tutte intorno alla pelle. Allora, sono dei fori che servono per far uscire l'aria più velocemente. Quindi escono da questi fori e abbiamo un suono un po' più secco. In aggiunta a questo c'è un ring qui, tutto intorno, di plastica molto fine. Anch'esso forato in prossimità dei fori che ci sono sulla pelle. Questo ancora fa diventare un po' più secca la pelle e però in generale è una G1 un po' più secca. A me piace proprio per questa caratteristica che ha solo Evans. I fori li ha solo Evans. Quindi appoggio le bacchette qua, vado a montare l'altra pelle e ci vediamo subito. E eccola qua. Eccola qua, ragazzi. Genera Dry montata. Che vi dico? Ve l'ho detto. Vi ho già detto tutto. Questa raga è una pelle bellissima, è una pelle bellissima perché è una pelle versatile, è una pelle che non rompe le scatole perché appunto ha questi fori che gli permettono di essere molto più secca. E va bene per qualsiasi cosa perché la puoi tirare tanto e è bella secca ed ha una bella nota. La puoi tirare poco ed è sempre abbastanza secca ma ha una nota molto più bassa. Raga, per me, lo dico, questo lo dico, insultatemi, questa pelle vince sulla G1. Assolutamente. Io la preferisco alla G1. Poi dipende ovviamente che cosa dovete suonare. Se non avete bisogno di un suono secco, questa pelle non andrà bene, andrà meglio la G1. Ma per come vedo io il suono di rullante, questa raga ho... E la pelle è perfetta, questa è la mia pelle. Ok? Infatti se andate a vedere qualche video in giro di qualche video scorso, vedrete che uso molto spesso questa pelle. Quindi basta, per adesso questa per me vince. Vediamo chi vince tra tutte le pelli alla fine di questo video. Per me, ovviamente. E voi, qui sotto, dovrete aspettare di finire il video, perché qui sotto mi dovrete dire la vostra classifica di tutte e quattro le pelli. Se volete potete mettergli anche la G1 dentro. Quindi tutte e cinque le pelli. Adesso passiamo alla sorpresa. Mai provata sta pelle. Mai provata. Sono veramente curioso. Sono veramente curioso. Evans Hydraulic Black. Andiamo a montarla, poi vediamo che cosa succede. Sabbiatina, bella. Eccola qua, devo dire, pelle da vedere visivamente molto, molto, molto bella. Molto elegante, soprattutto con la scritta bianca, ovviamente. Allora, questa è forse la pelle che credo di aver tirato di più, tra tutte, per adesso. Ma è quella che ho tirato di più perché mi accorgevo meno di tirarla. Perché in pratica questa è una pelle doppia. Doppio strato, uno strato da 6.500, uno strato da 7.500, e mezzo con, tra uno strato e l'altro, anche dell'olio Hydraulic, proprio perché ha dell'olio tra una pelle e l'altra. E questo fa sì che la pelle, per prima cosa, sia sempre un po' più scura, come suono. E secondo, rimbalza meno. Quindi, comunque, tiravo sta pelle, rimaneva sempre un po' più scuretta, rimbalzava poco, quindi dicevo, ok, la tiro ancora. Ad un certo punto ho toccato la pelle e ho detto, è tiratissima, però, sentite. Quindi, il suono è veramente molto interessante, abbastanza stoppato, non tanto, devo dire, come la General Dry, perché, non avendo i buchi, i buchi, ragazzi, fanno tantissimo. Questo è il doppio strato, ma, comunque, la General Dry era più stoppata. Infatti, sentite che è riuscito un po' di armonico. Questa roba qua. Sicuro, questa è una pelle non versatilissima, devo dire, perché è abbastanza sull'oscuro, bella secca e... Soprattutto come sensibilità ne ha un po' meno rispetto alle altre, quindi anche proprio come gamma dinamica bisogna sempre suonare tutto un po' più forte. È come se si dovesse essere già un po' compressi quando si suona. Però, per generi come metal, per il rock un po' più pesante, o comunque suoni dove bisogna essere belli secchi, bisogna avere comunque un buon volume, il volume della pelle è buono, non tanto come la EC2, adesso sto facendo tutti i miei collegamenti, la EC2 è la più potente, però questo, in generale, è un buon compromesso per riuscire ad avere un suono abbastanza caldo, abbastanza basso e bello secco. Decisamente bello secco con una pelle che, devo dire, comunque visivamente è molto, molto, molto elegante, molto bella. Adesso andiamo all'ultima pelle. L'ultima pelle mi sembra sia una pelle abbastanza di nuovo normale. Ho fatto un po' strano, un po' normale, un po' strano, un po' normali. Torniamo a una pelle bianca, Evans Power Center Reverse Dot. Quindi, pelle sabbiata normale, ma con il Dot Reverse, quindi il Dot dietro. Questa è una pelle che ho usato anni fa per molto, 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 molto tempo, perché mi piaceva molto. Poi sono passato alla General Dry, ma questa è veramente molto interessante. Adesso vi spiego il perché. Vado a montarla. Ecco qua montata la Power Center Reverse Dot. Allora, in pratica, senza farlo troppo apposta, diciamo, anzi, proprio senza farlo apposta, ho preso G1, poi una pelle strana, poi una pelle somigliante alla G1, poi una pelle strana, poi di nuovo una pelle somigliante alla G1. Ma hanno tutte qualcosa di diverso, queste pelli somiglianti alle G1, perché questa, come la General Dry e come la G1, sono tutte pelli da 10 mils di spessore, ma ognuna ha una caratteristica diversa. La G1 è così, non ha niente. La General Dry ha i forellini e il ring sotto da 2 mils, questa invece ha il Power Center Reverse, quindi ha il Dot centrale, ma non sopra, sotto, come abbiamo visto con la EC Reverse Dot, che aveva appunto il Dot in mezzo. Questa è, secondo me, si posiziona tra la G1 come suono, come tipologia tra la G1 e la General Dry, quindi un po' più secca come suono, ma non tanto secca come la General Dry. La cosa caratteristica di questa è che ha un po' meno, è un po' più asciutta rispetto a una G1 e ha un po' meno rimbalzo, perché comunque il Dot alla fine fa un po' di peso e quindi fa rimbalzare meno la pelle. Ve la faccio sentire in un groove come ho fatto con tutte. Quindi, ragazzi, con questo, spero che questo video vi sia piaciuto, soprattutto spero che questo video vi sia servito. A me è servito molto, in realtà, perché alcune pelli le conoscevo già, altre pelli non le conoscevo ancora, ma devo ammettere che queste che ho provato, secondo me, sono tra le migliori pelli di tutte. Non riesco a fare una vera classifica, anzi, no, farò una classifica mia e poi voi mi farete una classifica vostra, qui sotto in descrizione, come vi ho detto. Allora, la mia classifica è General Dry. Ragà, quella per me è mondiale. General Dry. E.C. Reverse Dot, e non ve l'aspettavate questa, ma è una bella pelle, devo dire. È una pelle molto, molto, molto interessante. Poi c'è la G1, no. Poi c'è questa. Poi c'è questa, la Reverse Dot, che è l'ultima che ho provato. Poi c'è la G1 e poi in fondo c'è l'Hidraulic. L'Hidraulic, non perché non sia una bella pelle, ma perché per quanto mi riguarda la userei meno, perché non sono un metallaro, perché difficilmente cerco suoni metal, difficilmente cerco suoni di quel tipo. Quindi per quanto mi riguarda la metto al quinto posto, anche se è un'ottima pelle. La G1 la metto al quarto posto e voi mi direte, hai detto sempre che la G1 è più bella? È verissimo, perché è la pelle con cui puoi fare tutto. Se a qualcuno devo dire, piglia una pelle, ho sputato, gli dico, piglia una G1, assolutamente. Ma queste G1 con qualche rinforzo mi piacciono di più, devo dire. Quindi ottima. Vi ricordo che la Power Center esiste anche con il dot sopra, anziché sotto, è uguale. Ma dot sopra anziché sotto, io con questo voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi mandato queste pelli, per avermi dato la possibilità, come al solito, di fare questi splendidi confronti fra cose. Oggi è toccato alle pelli, quindi io vi ricordo che qui sotto in descrizione ci sono tutti i link che vi servono, c'è l'articolo, c'è tutto, c'è il pulsante per iscriversi al mio canale, tutte cose, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti